This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius, Aquarius. Omini, chi sarà? Di Albano e Romina Paolo? Ah, quest'anno stiamo esagerando con le presenze primitivi, devo dire, da Figaro. Ah, scusi, quanti anni anni? Ventuno, lei ha venti anni, lei mi vuol fare prima di che lei ha venti anni. Dove sono? Dio, veneti? Dio, veneti? Dio, veneti? Allora, il tuo nome? Dio. Il tuo nome? Dio. Il tuo nome? Vistia. Voi vi esibite in una cosa particolare, quindi immagino che tu farai una donna o meglio, no, forse la farà. Tu farai una donna, farai Romina e tu farai una donna. Prendetevi un microfono, ragazzi, avete bisogno di un cilio. Cosa? Cosa? Come via? Come via? Come via? Come via? Come via? Io credo che anche in questo caso ci sarà sicuramente da divertirsi, perché il costume tre annuncia un'esibizione spensionata in allena. Ragazzi, io vi auguro buona fortuna, vi lascio il nostro pubblico doveroso, la nostra giuria. Allora, la donna Romina, come neanche i Pradas, ci sarà! Dopo questa vita che si dimentica di te, dopo questo cielo senza rumore, non è un'esibizione spensionata in allena. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti